Con questo tutorial affrontiamo la verifica di un limite. Consideriamo questa formula, il limite di x che tende a 0 di f di x è uguale a L. Questa scrittura equivale a cercare per ε maggiore di 0 un intorno di x con 0 dove il valore assoluto di f di x meno L è minore di ε. Vediamo questo esempio. Devo verificare questo limite. Applicando allora la definizione di limite devo andare a scrivere che f di x, ossia 2 meno 3x, meno L, cioè il limite, meno 1, in valore assoluto deve essere minore di ε. Sommando 2 con 1 ottengo questa quantità che equivale a scrivere 3x meno 3 tutto in valore assoluto minore di ε. Ora questa disequazione con valore assoluto equivale a risolvere questo sistema di disequazioni dove scrivo una volta 3x meno 3 minore di ε e un'altra volta 3x meno 3 maggiore di meno ε. Risolviamo la prima e la seconda disequazione ottenendo questi due intervalli che adesso vado a rappresentare su una retta orientata. La soluzione della prima disequazione è questa qui, mentre la soluzione della seconda disequazione è questa qui. Osservo che 3 meno ε fratto 3 è certamente una quantità minore di 3 più ε fratto 3. Allora la soluzione comune sarà questo intervallo, ossia i che va da 3 meno ε fratto 3 a 3 più ε fratto 3. Ora devo andare a verificare che l'intervallo i è effettivamente un intorno di x con 0, ossia un intorno di 1. In poche parole devo andare a verificare se 1 si trova qui all'interno. Effettivamente 1 si trova in questo intervallo, questo perché è sufficiente osservare che questa quantità può essere riscritta come 1 più ε fratto 3. Quest'altra quantità può essere riscritta come 1 meno ε fratto 3. Allora 1 si trova proprio all'interno di questo intervallo e il limite, risulta verificato. Vediamo questo altro esempio. Voglio verificare questo limite e allora devo andare a risolvere questa disequazione in valore assoluto dove vado a scrivere f di x, ossia 4x meno 1, meno l, cioè il risultato del limite e quindi scrivo meno 1, deve essere in valore assoluto minore di ε. Sommando meno 1 con meno 1 ottengo meno 2 ed ora questa disequazione con valore assoluto è equivalente al sistema costituito da queste due disequazioni 4x meno 2 una volta minore di ε ed un'altra volta 4x meno 2 maggiore di meno ε. Risolviamo ora questo sistema ed otteniamo questa soluzione e questa soluzione che adesso vado a rappresentare graficamente. La rappresentazione grafica di questa soluzione è questo intervallo, mentre quest'altro intervallo rappresenta la soluzione di quest'altra disequazione. I valori per cui sono verificate sia la prima che la seconda disequazione sono questi qui, ossia tutti i valori che si trovano tra 2 meno ε fratto 4 e 2 più ε fratto 4. Ora devo andare a verificare che questo intervallo I è effettivamente un intorno di un mezzo. Osservo che questa quantità e questa quantità possono essere riscritte in questo modo, ossia un mezzo meno ε quarti ed un mezzo più ε quarti. Effettivamente un mezzo si trova tra questi valori e allora vuol dire che questo intervallo I è un intorno di un mezzo e il limite risulta verificato. Verifichiamo il seguente limite. E allora devo andare a scrivere che f di x meno L in valore assoluto deve essere minore di ε. f di x è uguale a 4 meno x quadro, L è pari a 0, quindi qui non aggiungo nulla, e in valore assoluto deve essere minore di ε. Allora vuol dire che devo andare a risolvere questa disequazione con valore assoluto. Scrivere all'interno del modulo 4 meno x quadro o x quadro meno 4 è la stessa cosa ed ottengo questa disequazione che risulta equivalente a risolvere il sistema di disequazioni x alla seconda meno 4 una volta minore di ε ed una volta maggiore di meno ε. Determiniamo ora le soluzioni di queste due disequazioni. Nella prima equazione porto il meno 4 a destra e la vado a riscrivere in questo modo e faccio la stessa cosa nella seconda disequazione portando il meno 4 a destra. Passando ora l'equazione associata e risolvendo si ottengono queste soluzioni e queste soluzioni. Per quanto riguarda la prima disequazione dovevamo andare a determinare i valori negativi e allora vado a prendere l'intervallo compreso tra meno radice di 4 più ε e più radice di 4 più ε. Per quanto riguarda la seconda disequazione devo andare a prendere gli intervalli esterni perché mi si chiede quando questa quantità risulta essere maggiore di zero. Osservo anche che meno radice di 4 meno ε è una quantità maggiore di meno radice di 4 più ε come radice di 4 meno ε risulta essere certamente una quantità minore di radice di 4 più ε. Ottengo in questo modo due intervalli, l'intervallo i1 e l'intervallo i2. Ora devo andare a stabilire quali dei due intervalli è un intorno di meno 2. Osservo che meno 2 si trova in questo intervallo. Questo perché è sufficiente osservare che meno 2 può essere riscritto come meno radice di 4 e questa quantità è una quantità compresa tra meno radice di 4 più ε e meno radice di 4 meno ε. Allora vuol dire che questo limite viene verificato con un intorno i1 avente questi estremi. Verifichiamo questo limite e allora devo andare a verificare che f di x, ossia x alla seconda meno 2x più 2 meno l, ossia meno 1, in valore assoluto deve essere una quantità minore di ε. Dopo aver sommato 2 con meno 1 ottengo questa disequazione che è equivalente a risolvere questo sistema di disequazioni. Per quanto riguarda la prima disequazione, passando all'equazione associata ed applicando la formula risolutiva otteniamo questa quantità. Osservo che 4 con meno 4 si semplificano e quello che mi rimane sotto la radice è 4 ε che può essere riscritta come 2 per radice di ε. Mettendo ora numeratore in evidenza un 2 e poi andando a semplificare con il denominatore otteniamo due soluzioni, 1 più radice di ε ed 1 meno radice di ε. Per la seconda disequazione passiamo all'equazione associata ed applichiamo la formula risolutiva. semplifichiamo 4 con meno 4 e all'interno della radice mi resta meno 4 ε. Ricordando ora che ε è un qualunque numero maggiore di 0, meno 4 ε certamente è una quantità negativa e allora vuol dire che l'equazione risulta impossibile. Diamo ora una rappresentazione grafica delle soluzioni della prima e della seconda disequazione. Per quanto riguarda la seconda disequazione dobbiamo prendere l'intervallo interno perché mi si chiede quando questa quantità è minore di 0. Allora ottengo questo intervallo. Nella seconda disequazione osservo che ottengo impossibile. Allora vuol dire che devo prendere tutti i valori di r perché mi si chiede quando questa quantità è maggiore di 0. La soluzione comune della prima e della seconda disequazione è questa qui, ossia l'intervallo I che ha estremi 1 meno radice di ε ed 1 più radice di ε. Ora devo andare a verificare se questo intervallo è un intorno di 1. Visto che 1 è compreso tra 1 meno radice di ε ed 1 più radice di ε, 1 si trova in questo intervallo ed il limite risulta verificato. Vediamo quest'ultimo esempio. Devo verificare questo limite. E allora devo andare a scrivere f di x, ossia x alla terza meno 1, meno L, cioè meno 1, in valore assoluto, deve essere minore di ε. Dopo aver semplificato meno 1 con 1 ottengo valore assoluto di x alla terza minore di ε. Questa disequazione risulta essere equivalente a questo sistema di disequazioni. Risolvendo entrambe le disequazioni ottengo questa soluzione e quest'altra soluzione che ora le vado a rappresentare graficamente. L'interpretazione grafica di questa soluzione è questa, mentre l'interpretazione grafica di quest'altra soluzione è questa qui. La parte comune che viene verificata dalla prima e dalla seconda disequazione è questa, ossia l'intervallo i di estremi radice terza di meno ε, radice terza di ε. Ora devo andare a verificare se questo intervallo è effettivamente un intorno di 0. Visto che 0 è compreso tra radice terza di meno ε e radice terza di ε, allora vuol dire che l'intervallo i è un intorno di 0, e allora vuol dire che abbiamo verificato questo limite. E con questo termino il tutorial sulla verifica dei limiti.